Don Stefano Tarocchi, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, ha pubblicato un libro, ha curato la pubblicazione del libro Giovanni il Vangelo dell'Amore che è stato scritto in due fasi della sua vita dal cardinal Hermenegildo Florit, arcivescovo di Firenze. Ecco, questo lavoro nasce da un documento, un faldone ritrovato nell'archivio del capitolo metropolitano, vero Don Tarocchi? Sì, esattamente, esattamente. Anche il titolo che abbiamo consegnato alla stampa era voluto dall'autore, quindi probabilmente lui aveva iniziato un progetto quando era ancora docente alla Pontificia dell'Università La Piera Menze, quindi poi diventare vescovo prima del concilio, che diciamo di fatto l'ha accompagnato per tutta la vita. Ecco, tanto per introdurre poi l'analisi del libro che faremo tra poco, ma il cardinal Florit è stato, come diceva prima, docente fino ad arrivare poi anche ai vertici dell'Ateneo, del Pontificio della Pena Menze, ma durante il concilio è stato quello che ha dato l'input e ha curato la redazione di un documento conciliare importante, la Dei Verbum. Sì, dunque, ha lavorato anche su altri testi, ma in particolare sui primi due capitoli della Dei Verbum, questi sono quelli fondamentali. Lì, diciamo, si è avvalso dell'aiuto, dell'assistenza, dell'accompagnamento di Umberto Betti che è poi diventato rettore anche dell'Ateneo, poi è stato nominato gli ultimi anni della vita anche cardinale. Ecco, ma l'opera di questi due grandi personaggi è stata determinante perché la Dei Verbum prendesse la forma che poi ha assunto. Per non parlare poi della traduzione della Bibbia negli anni Settanta, di cui i testi abbiamo usato nella liturgia fino a poco tempo fa. Esattamente, e questa traduzione, dunque, ebbe, diciamo, una dinamica molto molto interessante perché venne pubblicata per prima una edizione, diciamo, provvisoria, perché non era una traduzione originale. In realtà, presero un testo che era già presente, perché sembra strano, ma nel mondo cattolico, prima di avere una traduzione lingua italiana, abbiamo dovuto affrontare fatiche enormi. Florit, in particolare, dopo il lavoro fatto dai biblisti specialisti, curò una commissione di linguisti che aveva come base la città di Firenze e quindi gli ha dato anche quel tipico tenore di linguaggio a cui noi siamo abituati, che, fra l'altro, è anche molto importante perché in tanti anni questa traduzione si era sedimentata nella mente delle persone e, come hanno notato alcuni storici, questo era un valore aggiunto rispetto a una semplice traduzione. Comunque è stata una cosa molto molto importante. Ecco, entriamo nello specifico del libro, ma facciamo una premessa. Che cos'è che affascina voi studenti e poi docenti di Sacra Scrittura, che ci permette anche di capire il lavoro fatto da Florit? Cosa affascina? Diciamo che uno, quando studia le scienze bibliche, come prima cosa deve determinare se il suo settore primario è l'Antico e il Nuovo Testamento, non che l'uno sfugga all'altro, ma c'è poi tutta una base linguistica alle spalle che non è da trascurare. E poi all'intero degli studi dipende se si è affascinato più, che ne so, dalla letteratura giovanea, il Vangelo, le lettere e poi, per esempio, il libro dell'Apocalisse, ora, riassumo brevemente questioni molto complesse, oppure altri filoni, la letteratura paolina, oppure i Vangeli sinottici, quelli che io attualmente insegno alla facoltà. Però mi ricordo quando io ho fatto la licenza in scienze bibliche al Pontificio e all'Istituto Biblico, ho avuto la possibilità di avvicinare dei grandi maestri che mi hanno, diciamo, introdotto a una comprensione della letteratura di Giovanni, in particolare il IV Vangelo, che poi è stata anche importante nell'accettare di prendermi questo compito come poi di fatto è venuto fuori, insomma. Ecco, Giovanni, il Vangelo dell'amore è un testo di, è scritto personalmente dal cardinal Hermenegildo Florit, all'epoca da don Monsignore Hermenegildo Florit, poi nell'ultima fase della sua vita. Sì. È stato un lavoro facile? Il mio lavoro? No, non è stato per niente facile perché dovevamo andare a cercare il materiale che c'era stato trasmesso. Oggi è tutto più semplice con la stesura in formato elettronico, si può accedere più facilmente ai testi, eccetera, e anche fare tutte le correzioni necessarie. E qui abbiamo dovuto fare un lavoro veramente di grande impegno che ci permetteva intanto di prendere coscienza che quest'uomo aveva cominciato a lavorare probabilmente negli anni del suo insegnamento alla Fernanense. Quindi si parla dagli anni 20 agli anni 50. Eh sì, eh sì, eh sì. E quindi per esempio il primo capitolo con il famoso prologo di Giovanni ha un'estensione enorme, comeppure c'è un capitolo iniziale che è la premessa allo studio vero e proprio. Di tutto il materiale è assente soltanto il capitolo 10, purtroppo non c'è stato modo di trovarlo, magari un giorno riapparirà e allora riapriremo questa pagina. Diciamo che è un lavoro fatto con la scienza esergetica di quel tempo, che aveva un'attenzione più particolare verso l'apologetica, cioè l'idea di difendere l'interpretazione generalmente dal mondo della riforma, cosa che oggi non è più, come dire, non è più pane quotidiano, nel senso che non fa differenza un esergeta cattolico rispetto a un esergeta luterano. L'importante è che siano due esergeti vari, validi, ecco, insomma. Però, ecco, a quell'epoca lì era diverso e indubbiamente questo lo fa vedere, comeppure era diverso l'approccio alla biografia che lui aveva consultato. Quindi, per gli anni che questo lavoro ha avuto modo di stendersi, era una cosa seria, un peccato che fosse rimasto chiuso dentro un armario. Tra l'altro, l'ultimo periodo, quello che va dal 1977 al 1985, anno della sua morte, è stato per lui molto difficoltoso perché era il periodo in cui era iniziato a perdere la vista. Sì, l'aveva perso, in realtà, aveva perso, diciamo, questo grande dono, questa grande possibilità che abbiamo già qualche anno prima, no? E quindi ha cercato di finire, ecco, facendo in modo di poter usare un testo che magari lui inizialmente sembra che scrivesse molte volte a mano. Qualcuno gli trascriveva con le famose macchine per scrivere dell'IBM, dicevano di carattere più grande. Io ho fatto un calcolo approssimativo in corpo 16 o qualcosa del genere. e che però lui ricorgeva ancora, quindi è un lavoro perché il pressione è infinito. Ecco, questo è anche un progetto che ha fortemente voluto l'attuale arcivesco di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori. Sì. proprio perché, più che non dice nulla di nuovo, più di tanto sul Vangelo di Giovanni, ma è un contributo che merita essere consegnato agli specialisti, agli studiosi, agli studenti. Sì, anche perché, dopo tutto, è l'opera che ha occupato l'intera esistenza di questo pastore, prima da biblista a Roma, poi gli altri impegni, quello che lo ha fatto al concilio, e poi, ecco, come accedersco di Firenze, prima come coadiutore della La Costa, e poi come titolare della Cattedra dei Santi di Zanopio di Antonino, sicuramente è un omaggio alla memoria di questa persona. Ecco, quando lei ha avuto tra le mani il manoscritto e ha incominciato a leggerlo, a studiarlo, che cosa ha provato, quali sono state le sensazioni che l'hanno poi aiutata anche nel suo lavoro? Beh, diciamo che prima c'era una certa, come dire, un certo pudore nell'entrare dentro pagine che lui non aveva avuto né il modo, né l'occasione, né il tempo di pubblicare in prima persona. Quindi questo è ciò che prova chiunque va a mettere mano a un'operazione di questo genere. Ecco, e poi certamente, ecco, soprattutto alcune parti, questa attenzione particolare al testo, soprattutto i primi 18 versetti, il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, tecnicamente si chiama acribia, cioè attenzione, è una cosa molto affascinante. Poi, diciamo, non troviamo mai due capitoli condotti nello stesso modo, abbiamo cercato di ridargli un ordine e anche di dare uno schema per cui il lettore possa andare subito a cercare quello che vuole cercare, perché questo chiaramente non è un libro da leggere dall'inizio alla fine, come non sono mai da leggere nei commentari dall'inizio alla fine. Quindi, diciamo, rispetto per una figura molto complessa, anche molto discussa per ragioni che forse un giorno si capiranno meglio quando saranno raffreddate tutte le questioni che stanno alle spalle, però, insomma, sicuramente non è una cosa banale, ecco, sicuramente no. Abbiamo cercato, ricordiamo quindi chi ha collaborato con lei in questo lavoro, nella parte finale più che altro. Sì, ha collaborato il padre De Felice, Luca Maria De Felice. Ricordiamo dell'Ordine dei Capulcini. Dei Capulcini, sì, che ha dato mano a completare la lettura, perché effettivamente, soprattutto nelle fasi di stampa, era abbastanza complesso far bene quest'operazione, che è fondamentale, perché poi alla fine si annebbia la capacità anche del curatore di fare bene il suo lavoro. E ricordiamo anche Don Gilberto Aranci, perché il libro esce nella collana dell'archivio arcivescovile di Firenze. Sì, e Don Gilberto Aranci ha fatto un prezioso lavoro di risistemare tutte le note a fine di ogni capitolo, andare a completare i riferimenti bibliografici che erano un po' approssimativi, sicuramente quando uno ci ha fretta a completare un'opera, questo problema c'è sempre. Non è una cosa che si deve insegnare mai agli studenti, perché se uno non trova subito una cosa, o si ricorda di cercarlo, se no rimane lì inesplorata. Ma ora, ripeto, con l'elettronica è molto più semplice. Ecco, senza il suo prezioso lavoro, che ha proposto anche l'editore che poi l'ha pubblicato, la collana che lui cura, ecco, tutta questa fatica sarebbe rimasta un po' in sospeso fin quando non avessimo trovato un orizzonte preciso.